buonasera e ben ritrovati anche da parte mia andiamo subito a presentare il primo ospite di questa puntata di save drive in collegamento da torino un saluto un benvenuto ad andrea cavatmi che è il fiat e abart marketing manager per l'italia buonasera andrea grazie essere con noi buonasera a tutti portato in studio una novità importante in casa fiat dal colore brillante frizzante e la nuova fiat tipo cross partiamo in questo modello si la nuova tipo adatta da un ampio target la versione hatchback per un cliente più giovane dinamico poi abbiamo la versione city sport che ne rappresenta il massimo della personalità dello stile la versione station wagon perché ha bisogno di più spazio con i suoi 550 litri di bagagliaio ed infine la nuova la versione cross che vedete lì nello studio che rappresenta il family crossover destinato alle giovani famiglie che cercano funzionalità stile e cui piace viaggiare immersi nella natura la nuova tipo è stata profondamente rivista a fine dello scorso anno con un restyling importante le ha permesso ad adottare il nuovo logo lettering di fiat che ha debuttato la nuova 500 e soprattutto molti nuovi sistemi adast come l'attention assist oltre al lane departing warning e il sistema di frenata d'emergenza per garantire la massima sicurezza nonché abbiamo introdotto anche il nuovo sistema infotainment con il connect 5 che da 10 pollici che permette di adottare il carplay android auto in modalità wireless quindi una funzionalità molto comoda per i nostri clienti che tipo di ruolo potrà avere all'interno della famiglia tipo questa versione cross cioè potrà allargare la clientela potrà aiutare a generare anche un po una nuova familiarità con questo modello sì sicuramente la tipo direi che è stato un ottimo successo per l'azienda perché abbiamo già venduto le 200 mila in italia dal rilancio della tipo e la tipo cross è qualcosa in più perché a 7 centimetri di altezza rispetto alle altre versioni quindi offre una posizione di guida più alta maggior comfort nell'uscita nell'ingresso dall'auto e oltre aiutare nel posizionare i seggiolini posteriori quindi sicuramente è adatto alle giovani famiglie a chi cerca qualcosa in più che piace a cui piace viaggiare l'avventura magari nella natura su una nuova tipo possiamo anche far notare il disegno della nuova griglia le miligone lo stick play danno tutto un carattere più solido e muscoloso questa versione ma anche i fari full led aumentano il carattere dando ancora più personalità senti citavi prima chiaramente gli aspetti fondamentali legati ai sistemi di sicurezza l'infotainment di bordo che sono aspetti sempre più richiesti da parte del consumatore finale come vi posizionate invece dal punto di vista delle motorizzazioni per le motorizzazioni abbiamo lanciato il nuovo motore a benzina fra fly e tre cilindri con 100 cavalli che sicura sicuramente una guida più piacevole un'ottima silenziosità affiancati ai motori super efficienti diesel multijet 1.300 e 1.600 rispettivamente da 95 e 130 cavalli tutti ovviamente omologati euro 6d final quindi con standard di emissioni ottimali bene se ti ricordavi prima che giustamente non c'è solo la versione cross all'interno della famiglia tipo ma c'è un'altra storia no che è una storia molto interessante molto se vogliamo anche in grado di regalare emozioni ovvero la tipo city sport no quindi dal nome parliamo già di una vettura con una cavalleria un po più importante sì allora sito di sport è un concentrato di dinamismo e tecnologia ideale per un cliente giovane che cerca personalità caratteri sportive tecnologia i dettagli nero lucido i cerchi diamantati da 18 pollici oltre ai fari full led sia anteriori che posteriori esaltano lo stile di questa versione ma anche dal punto di vista di tecnologia abbiamo messo il massimo quindi abbiamo il tft nel quadro strumenti da 7 pollici totalmente configurabile il display da 10 pollici standard che adotta il sistema yukonit 5 che abbiamo lanciato con la 500 elettrica che permette di personalizzarlo proprio come fosse proprio smartphone quindi è sicuramente un concentrato di tutto quello che è la nuova tipo non solo la famiglia tipo all'interno della gamma ma chiaramente di fiat ma altre vetture che rappresentano un pezzo importante di questa storia mi riferisco alla fiat 500 che proprio nel 2020 è stata lo sappiamo lo ricordiamo giusto per nota di servizio lanciata nella sua configurazione elettrica 100 per cento andrea nel 2021 al momento risulta l'auto elettrica più venduta l'anno 500 è stato qualcosa di incredibile abbiamo messo il massimo sforzo tutta l'azienda per lanciare questo progetto unico un po come è stato fatto in passato nel 1957 con la storica è un progetto partito da un foglio completamente bianco ma stanno attenti a non tradire lo stile e l'iconocità della 500 queste sono state le chiavi di successo della 500 completate da scelte tecnologiche che la pongono al pari delle vetture di categoria superiore ricordiamo tra tutte la ricarica fast charge oggi nel mercato non esiste niente di simile sicuramente rappresenta l'auto elettrica più emozionale che c'è sull'offerta elettrica oltre ad offrire soluzioni tecnologiche per i clienti più sofisticati ed esigenti una 500 che anche nel 2021 continua a far parlare di sé proprio in primavera avete lanciato delle versioni speciali ribattezzate e google che siglano un accordo una partnership con il colosso americano chiaramente voi giocate ormai un po in casa perché chiaramente siete anche ormai a tutti gli effetti americani quindi sicuramente questo può aver aiutato da questo punto di vista però è sempre interessante raccontare come nascano queste collaborazioni soprattutto con marchi così importanti a livello mondiale diciamo che questa collaborazione è stata sicuramente una novità importante perché è la prima volta che google univa il suo brand con una casa automobilistica quindi questa testimonia quanto il brand 500 rappresenta un valore unico a livello internazionale quindi abbiamo questa fortuna di questa iconocità di 500 che tutti ci invidiano ma non si tratta solo di stile questa serie speciale ma ovviamente anche di tecnologia perché un parte come google non poteva essere altrimenti infatti abbiamo adottato insieme a loro il dispositivo Nest Hub del voice assistant che offre google per permettere per la prima volta di dialogare direttamente con la propria vettura quindi si potrà far accendere le luci in emergenza semplicemente con un comando vocale e magari quando non si trova la propria auto nei grandi parcheggi poterla individuare facilmente grazie un saluto ad Andrea Cavatmi lo ricordo Fiat e Abarth marketing manager per l'Italia che è stato con noi in collegamento da Torino grazie Andrea di essere stato con noi grazie a voi e a tutti i tre spettatori e noi proseguiamo pure con questa puntata 616 di Safe Drive grazie a tutti